Ciao amici di Run Health 2012, benvenuti qui a questo bellissimo parco di trenno nella zona ovest di Milano in una giornata stupenda. Cosa consigliamo per cominciare a star bene o comunque a continuare a star bene? Una bella attività fisica esterna, corricchiando e camminando in uno dei parchi non solo milanese ma di tutta la nostra bella Italia può mantenervi in forma. Non andate oltre il vostro limite, cercate di camminare o correre in maniera costante ma ad un ritmo che vi permetta di poter parlare. Godetevi l'aria buona che tra poco arriverà con questa bellissima primavera in tutta Italia e vi aspettiamo alla prossima elezione di Run Health 2012. Ciao! Musica Musica Spesso chi corre soggetto a disordini intestinali e ad un calo delle difese immunitarie, quindi oltre ad una dieta bilanciata ed equilibrata, io suggerisco di assumere tutti i giorni in maniera costante e quotidiana appunto probiotici che arrivano vivi vitali a livello del nostro intestino dove esercitano effetti benefici. Musica